8. Affina al Presidente Berlusconi, pieno mandato politico e giurisico. In questi 8 punti, l'elettico rivistato, che finge di parlare a nome di tutti, non solo il suo, si è compilato quello che è la fine e non solo del PDM, ma di un'epoca intera. E che ci faccio compagnolo tu? E che ti vuoi mangiare? E' il suo carnaval. E' il rato consiglio. Da noi bisognerà capire che arriveranno le risorse. Faccio un'altra parte di questo, è un pattugliatore d'altura della Capitaneria. I migranti sono stati trasbordati su due motovedette della Guardia Costiera, salvati da Siracusa, che poi hanno redduto Pozzama. I migranti soccorsi sono 81 uomini, 19 donne e 37 minorenni, tra questi ultimi 18 bambini. Poi stanno soccorsi da una corvetta chinella che è una venuta militare nel canale in Sicilia. Attesi migliaia di persone oggi in pomeriggio a Napoli per una manifestazione organizzata per protestare contro le quina rinforzare i freddi tossici nella cosiddetta interna. Potrebbe essere un paradiso del lago Patria, tra Castelvoturo e Giuliano, zone in cui, secondo i taggini e i petiti, ogni caro, un corso d'acqua, era buono per salire tutti gli amici. Ci hanno detto che c'è una mappa dei siti, però hanno detto i nuovi dei siti. Non tutti qui sono disposti a fare la macchina di scopri adesso, questo rimane disastro. E' stato paragonato dalla Commissione per garantire l'inchiesta sui siti della scorsa legislatura ad una peste che ha un disastro di proporzioni difficilmente quantificabili, e anche perché sono più i luoghi, chiaramente e segretamente, che non si può fare. La terra trema, che si agita, non si muovono senza precisa direzione. Ha colpito il mare, questa volta in piena notte, un nuovo terremoto all'alto del Giappone e di centro a 320 km dalla costa. La scorsa del sisma, la televisione pubblica, segnalato un'unica anomale di circa 30, al massimo 55 cm, che sono arrivate sulla costa senza normalità. E' un paese, il Giappone, dove l'inizia antisismica è la notte.